Ciao a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati qui sul mio canale. Io sono Vanessa e oggi trattiamo ancora del mondo della mia beauty collection. Finalmente facciamo una tematica che mi sta molto al cuore, sto parlando della skin care. E' una cosa che mi piace tantissimo fare, non so voi ma io adoro. Ogni giorno ho i miei prodottini che utilizzo e oggi voglio mostrarvi quali utilizzo e fare una morning routine insieme. Quindi vi mostro i passaggi che faccio, poi ci metteremo anche a sistemarla. Se vi siete persi i precedenti video dove parlo della mia beauty collection, mi raccomando andatevi a riprendere sulla mia playlist della beauty collection dove mostro un po' tutti i prodottini che mi ritrovo ad avere. Abbiamo eseguito anche un bel decluttering make up proprio qualche giorno fa e adesso ci concentreremo sulla nostra skin care. Oggi Total White, come potete vedere, un brand che vi voglio mostrare in particolar modo oggi sarà quello della Pavaiglione Cosmetics. Guardate questa è una loro scatola dei prodotti che io prendo da loro. Il Pavaiglione Cosmetics è un marchio di laboratorio farmaceutico della farmacia di Bologna che prende proprio il nome di Pavaiglione. Io mi trovo bene con questo brand che loro hanno creato apposito perché appunto noto dei miglioramenti della mia pelle e trovo che comunque i loro prezzi sono abbastanza abbordabili con anche la qualità dei loro prodotti. Quindi per questo motivo, senza alcuna sponsorizzazione ovviamente, è una cosa che mi sento di fare io, che voglio mostrarvi appunto come io mi trovo bene con loro, con la maggior parte dei loro prodotti. E vi mostrerò tutti i prodotti che io utilizzo dalla A alla Z di tutti gli step della mia skin care routine. Prima di iniziare questo video vi voglio ricordare che se vi piacerà di mettere un bel like qui sotto e di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanella in modo da rimanere sempre sintonizzati con le mie prossime novità in arrivo. Ma adesso iniziamo subito! Eccoci qua con tutta la skin care completa che io utilizzo. Vi voglio fare una panoramica in generale di tutto, così vedrete bene step by step quello che utilizzo. Allora qui ci sono tutti i prodotti della pavaione che adesso andremo a vedere e qui quegli riguardanti altri brand. Qui ci sono i dischetti di cotone che io utilizzo quotidianamente, qui le salviettine e qui ci sono gli accessori che utilizzo che poi andremo a vedere bene quando farò la routine. Quindi mi vedrete utilizzare anche gli accessori mentre farò le maschere, lo scrub. Qui ci sono dei campioncini. Ok, iniziamo! Primissima cosa che faccio quando inizio la mia skin care, sia la mattina o la sera, è prendere questa pinza, quindi indossare la pinza sui capelli e mettermi su questa fascia per i capelli, per proteggere, diciamo, la zona dell'attaccatura dei capelli, per evitare che con tutti i prodotti che poi utilizziamo, evitiamo che si possano sporcare. Quindi prima mettiamo questi accessori. Poi, se siamo truccate, in questo caso io utilizzo l'acqua micellare della bioderma con i dischetti di cotone, vedete questi due insieme, sono la combo che utilizzo subito. Io utilizzo la Sensibio H2O perché è quell'acqua micellare che va bene sia per la faccia che per gli occhi. Io ho una pelle reattiva e questa acqua micellare è l'unica nel suo genere che non mi fa arrossare il viso e mi mantiene la pelle anche idratata, quindi la trovo veramente eccezionale. Se non sono truccate e quindi voglio iniziare la mia skincare routine, in questo caso utilizzo direttamente la doppia detersione. Ma prima, sempre per una questione che se mi dovessi ritrovare fuori casa e quindi non mi posso portare questa qui da 500 ml con i dischetti vari, in tal caso potrei utilizzare queste salvettine che sono multiuso con aloe vera e vitamina E, ma solo nell'evenienza che non posso portarmi l'acqua micellare dietro e quindi uso queste salvettine struccanti per il viso. Ma è raro, preferisco sempre utilizzare l'acqua micellare perché è un tocco sana e va via il trucco come deve. Quindi dicevamo, devo fare una skincare routine completa, inizio con la doppia detersione. E' il primo step ufficiale della mia skincare routine. Allora, la mattina inizio solo con un detergente, che in questo caso è questa mousse di pavaglione Hydra Calm Gentle Foam, che sarebbe per pelli sensibili e ha la niacinamide, l'aloe vera e l'acqua di camomilla. Io la trovo eccezionale perché è leggera, ha un odore buonissimo e idratante, nonostante quindi è una mousse, non è per niente aggressiva, quindi è perfetta per chi ha una pelle molto delicata, sensibile come la mia, e una pelle che ha bisogno di essere pulita per bene, ma nel contempo non deve essere aggredita nel suo film idrolipidico. Allora, questa è la mattina, mentre di sera faccio la doppia detersione. Avete sentito anche voi sicuramente parlare della doppia detersione, che è un tipo che utilizzano soprattutto in Corea, l'hanno realizzata proprio lì e noi italiani abbiamo preso facilmente questa usanza. E' ottima perché aiuta a rimuovere al 100% tutti i residui di sporcizia che abbiamo sul viso durante la giornata, per quello viene fatta in primis la sera. Utilizziamo prima il detergente oleoso, in questo caso io utilizzo questo della Roche-Posay, il Lipicar, il Lavante AP+. Questo detergente è proprio per chi ha una pelle molto sensibile, che si può arrossare facilmente. Io lo utilizzo di 200 ml a un paio di sei mesi. Io lo sto utilizzando già da un po' di tempo, non mi fa impazzire l'odore, infatti credo che non lo ricomprerò per questo motivo, però qualitativamente pulisce, così come dice. Quindi è ottimo per chi ha una secchezza, ha una tendenza atopica. Poi, secondo step, sempre lui, questa mousse detergente viso schiumogeno. E questo è il mio primo step, come vedrete più tardi. Allora, quando io faccio una skincare routine completa, in questo caso il mio secondo step diventa lui. È un peeling enzimatico della Pavaione Cosmetics, ha la papaina e all'estratto di papaya. È meraviglioso, è leggero, sembra un gel applicato per dieci minuti ed è l'esfoliante più leggero che esista. È perfetto per tutte quelle pelli che hanno bisogno di esfoliare con delicatezza. Quindi è consigliato da parte mia, ha un paio di sei mesi, mi aiuta tantissimo e lascio la pelle idratata una volta applicato. Quindi, dopo la doppia detersione, un bel peeling enzimatico per esfoliare la pelle. E dopo vado a farmi una maschera. Dalla Pavaione Cosmetics ho varie tipologie di maschere. Ora le vedremo meglio tutte e tre, perché sono quelle che utilizzo soprattutto in inverno. Queste sono il trio di maschere della Pavaione Cosmetics che io utilizzo ogni qualvolta vedo il mio viso bisognoso. Allora, questa qui, la maschera viso vitaminica. Non so se voi conoscete l'influencer Giulia Sinesi, che su Instagram mi ha fatto conoscere questo brand della Pavaione Cosmetics. Un po' pubblicizza questi marchi, mi ha fatto venire la curiosità di questo brand e devo dire che la ringrazierò a vita perché sono ottimi veramente tutte e tre le maschere. E quindi partiamo da questa, la maschera viso vitaminica, la vitamin silk, che ha la vitamina C stabilizzata e la sericina. Io questa la utilizzo soprattutto quando ho il viso spento, grigio, che lo vedo bisognoso di un po' di luce, idratazione. Quindi è perfetto quando abbiamo bisogno di rinvigorire il viso. Poi abbiamo la maschera viso Gentle Mask con actisotia, acido ialuronico e pantenolo della HydraCalm, che sarebbe quella maschera che io utilizzo quando ho bisogno di idratare e di lenire il viso, perché magari lo vedo un po' maltrattato, è bisognoso di idratazione. Quindi utilizzo questa maschera ogni qualvolta ho bisogno di una coccola in viso e farlo ristabilire da eventuali rossori, bruciature o ha bisogno di idratazione profonda. Infine abbiamo lei, la Purple Mask Hydra Matte, che è una maschera viso purificante all'argilla viola, bardana e T3. Sarebbe quella maschera che utilizzo quando ho le imperfezioni, che si vedono tantissimo. E allora vado con questa maschera a pulire i pori, punti bianchi, punti neri, tutte le imperfezioni che si evidenziano soprattutto durante il periodo del ciclo, ad esempio, o il preciclo. Quindi aiuta tantissimo a purificare. Queste sono tutte e tre azioni differenti. Le utilizzo in base a quello che la mia pelle ha bisogno quotidianamente, una massimo due volte a settimana, una di loro, perché la maschera viso deve essere fatta massimo due volte a settimana, non di più. Mentre lo scrub, il peeling enzimatico, può essere fatto una o anche due volte a settimana. Io personalmente lo faccio una volta solo. Quando faccio una skin care completa, utilizzo sia il peeling che una di queste tre maschere insieme. Quindi questo è il trattamento speciale che io vado a realizzare, cioè il peeling con una di queste tre maschere. Andando avanti, quando finisco di fare una di queste tre maschere, vado a rimuovere con questo, che sarebbe un guanto di pulizia, che mi rimuove sia le maschere che il peeling. Può essere utilizzato anche per detergere il viso e quindi magari dopo una detersione posso utilizzare questo guanto. Può essere di multiuso e mi piace utilizzarlo ogni qualvolta faccio skin care. Prima di andare nei prossimi step successivi, un altro esfoliante, oltre al peeling enzimatico che utilizzo soprattutto la mattina, sarebbe questa lozione viso per pelle mista e impura. E presenta l'acido salicilico, la centella asiatica e l'acido ialuronico della Hydra Matte della Pavaione. Questo esfoliante, avendo l'acido salicilico al 2%, che tra l'altro io ne sono allergica, però per fortuna sulla pelle non mi fa alcuna reazione. Questa lozione, I'm Perfect, viene utilizzata solo ed esclusivamente la sera, come esfoliante quando ci ritroviamo ad avere magari tanti punti neri, o bianchi o bianchi o magari ci vediamo il viso pieno di impurità e quindi utilizzo lei qualche goccetta che metto con un dischetto di cotone e poi sostituito al peeling enzimatico perché o questo o questo, insieme, mai. Quindi utilizzo questo, dopo la detersione, successivamente potrei fare la maschera, questa qui, sempre della Hydra Matte, che sarebbe, diciamo, insieme una bellissima combo per purificare il viso come si deve. Quindi molte volte la sera faccio questo trattamento. Voglio ricordare che quando si utilizza la lozione all'acido salicilico, il giorno dopo bisogna sempre utilizzare la crema solare. Utilizzo questa qui, la Fusion Water Urban SPF 30 della Isdin, che è fotoprotettore, una crema solare che è praticamente finito, ma ho comprato la sua ricarica. Dura come pao 12 mesi questa qui, mentre la lozione esfoliante, questa all'acido salicilico, dura 6 mesi. Quindi, una volta fatto come step il primo della doppia detersione, il peeling enzimatico o l'esfoliante 6 sera, all'acido salicilico, e una di queste tre maschere, passiamo allo step successivo, che sarebbe l'essenza. Quando parliamo di essenza, io mi riferisco a Uriage Water Mal, che sarebbe idratante, riequilibrante e illuminante. Si chiama Glow Up Water Essence, e praticamente per tutti i tipi di pelle, questa raga quando la mettete con un dischetto di cotone, oppure la volete mettere tramite le mani, io faccio così, applico qualche gozza con le mani, regala al viso un'idratazione e vedrete che il viso è più illuminato. È fantastica, io l'ho presa in farmacia, è 100 ml di prodotto e dura 12 mesi. Io la utilizzo sempre dopo lo step dello scrub o della maschera, perché essendo che il viso poi, nonostante queste di pavaione, sono tutte idratanti, e sappiamo benissimo che maschera e scrub possono aggredire la pelle e renderla secca. Utilizzo Uriage Water Mal, proprio per ridare alla pelle quell'idratazione che con i trattamenti si può perdere. E dopodiché passo agli step successivi, che riguarda il siero. Quindi, essenza e sieri. Ho questi due qui. La mattina utilizzo il siero alla vitamina C della Roche-Posay. È un concentrato appunto C10, che si utilizza soprattutto per illuminare il viso. Vedete, ha un pavo di tre mesi, quindi dura poco, perché la vitamina C facilmente cambia colore, quindi bisogna utilizzarlo tutti i giorni, rispettare il pavo, perché sennò cambia colore e poi non fa più effetto. La vitamina C è perfetta, non solo per illuminare il viso, ma anche per levigare la pelle. Vedrete che il viso praticamente vi cambia, perché questo è la Roche-Posay, a mio parere, è uno dei sieri vitaminici che veramente vedo la pelle cambiare. E poi, vitamina C è antiossidante, quindi dobbiamo sempre ricordare di utilizzare, anche in questo caso, la crema solare. Poi, un altro siero che utilizzo, a volte li insieme perché possono essere utilizzati insieme questi due, oppure poi la sera, se faccio skincare serale, utilizzo questo qui della Face D, che sarebbe il Purplump, ha quattro pesi di acido ialuronico e ha l'aniacinamida più provit B5. L'ho preso da Sephora, quando lo applico si vede il viso illuminato. Io lo consiglio perché è uno dei sieri all'acido ialuronico, di qualità non appiccica, rende la pelle idratata, ma nel contempo illumina, quindi è veramente un buon prodotto. Anche molte altre influencer ne parlano bene. Questo è lo step successivo all'essenza, i sieri. Dopodiché passiamo alle creme, in questo caso la crema contorno occhi. In questo periodo sto utilizzando una crema vitaminica contorno occhi, alla vitamina C stabilizzata e alla sericina. Ho bisogno non solo di idratazione, ma anche che mi illumini il viso, che mi levighi la zona, che sia antiossidante. Dato che ho un po' di colore viola nelle zone delle borse, ho bisogno appunto della crema vitaminica che mi aiuta a contrastarle. Dura sei mesi di Pao, la ricomprerò perché come crema contorno occhi è quella che veramente mi fa impazzire in tutti i sensi. Poi come crema viso, in questo caso utilizzo sempre il brand della Pavaione Cosmetics e sempre la linea Vitamin Silk, perché mi serve illuminare il viso. Con la vitamina C stabilizzata e sericina, anche in questo caso, sei mesi di Pao, questo della crema viso è il penultimo step della nostra skincare routine. Mentre l'ultimo effettivo step sarebbe la crema solare. Se si tratta del giorno, quindi una volta che abbiamo finito durante la giornata di fare la nostra morning routine, utilizziamo la crema solare prima di uscire da casa. Mentre se siamo a casa, ovviamente non c'è bisogno, finiamo con la crema viso normale. Questa solo se usciamo, ovviamente, perché i raggi del sole subito possono farci del male. Mentre se si tratta di una skincare serale, in questo caso terminiamo con semplicemente la crema viso. Oppure possiamo terminare con una maschera viso o con il siero. Tutto dipende sempre da quello che esige la nostra pelle. Utilizzo anche quest'altro step, che sarebbe l'olio labbra, la shiglem, per ammorbidire le labbra, idratarle. Non mi sta facendo impazzire, vi dirò perché lo trovo appiccicaticcio e non vedo che fa veramente dell'effetto. Quindi sicuramente quando finirà lo cambio, comprerò qualcosa di diverso. C'è pure un balsamo labbra della Nude Stix che utilizzo quando esco per ammorbidire le labbra. Però anche in questo caso questo della Nude Stix non mi fa impazzire, quindi cambierò anche questo quando mi finirà il prodotto. Infine, come potete notare qui, varie tipologie di campioncini che utilizzo soprattutto quando viaggio. Quindi ho qui un gel viso detergente all'acido ialuronico, ho una crema viso della Rilastil, ho una crema contorno occhi vitaminica, comode e da portarsi per il viaggio. E poi parliamo anche di un fattore di maschere e di tessuto. Vedete qui ne ho alcune. Ora io utilizzo questo genere di maschere solo per i periodi invernali o autunnali o anche adesso primaverili. Però in estate preferisco utilizzare le maschere di tessuto perché sono più idratanti, sono piene di prodotto, fa caldo, va a dissetare totalmente la pelle del mio viso. Quindi creo sempre questa distinzione perché in inverno purtroppo questo tipo di maschere in tessuto mi vanno ad appesantire la pelle perché avendo troppo prodotto e poi sono molto appiccicose mi creano diciamo problemi, mi fanno venire dei dolori di cervicale. Il mio viso non le vuole per gli altri mesi e quindi per le altre stagioni. E allora io proprio adesso che siamo ancora a maggio continuo a finire di utilizzare queste qui e quando nel mese di giugno, luglio, agosto inizia a fare caldo inizierò a comprare maschere in tessuto. Vedete già ne ho una qui pronta quando sarà adesso giugno. Vi spoilerò, vorrò provare quelle della Garnier che mi incuriosiscono molto, non le ho mai provate. Questo era tutto quello che vi volevo mostrare per quanto riguarda tutta la mia skin care routine. Vedete quanti prodotti, però il giusto perché io utilizzo tutto, come vedete non ci sono ricariche, non ci sono cose in più, non voglio assolutamente fare un accumulo. Ci tengo al minimalismo e quindi questi sono tutti i prodotti. Adesso vedremo insieme come faccio una skin care routine. Grazie a tutti. 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 Bene, abbiamo visto tutti i prodotti e i passaggi nello specifico che io realizzo ad ogni step. Adesso quindi sistemiamo la nostra skin care routine e organizziamo nuovamente i prodotti e li rimettiamo a posto. Grazie a tutti. Ok raga, spero che vi sia piaciuto questo video, io vi ringrazio per la compagnia che mi fate. Noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video e altre avventure. A presto, ciao a tutti.